Don Roberto, una bella iniziativa del Ufficio Diocesano per la Pastorale Familiare per questa estate. Che cosa state organizzando? Questa estate ormai da anni si organizza il Campo Famiglia nel mese di luglio. Un'esperienza bella di comunione, di condivisione, un'esperienza in cui le famiglie possono venire per riposare sicuramente dalla fatica, diciamo così, dell'inverno, vivere un momento anche per i bambini di passeggiate, di incontro con la natura, ma soprattutto anche di un'esperienza spirituale, di qualche incontro, di qualche accompagnamento anche lungo la settimana. Il tema quest'anno sarà appunto focalizzato su una figura biblica, una famiglia biblica, che è appunto quella di Tobia e di Sara, che ci faranno proprio da guida per riscoprire la gioia e l'amore nelle nostre famiglie. Ecco, un momento bello per stare insieme, in famiglia. Alberto, un momento organizzativo importante, com'è articolata, diciamo così, una giornata tipo? La giornata tipo è articolata, diciamo la mattina alle sette, alle otto, insomma dipende il programma giornaliero, con un momento di, diciamo, le lodi mattutine, colazione, facciamo poi, dipende dal programma della giornata, diciamo, normalmente la mattina facciamo una riflessione spirituale, i bambini insieme, in contemporanea con i genitori, fanno le loro attività, sempre sul solito tema, e poi dipende, le sette lunghe partiamo per fare escursione col pranzo al sacco, se no pranziamo e poi fissiamo il pomeriggio, la messa c'è tutti i giorni, decidiamo anche lì giorno per giorno quando farla, e la sera poi ceniamo sempre nella struttura e dopo cena ci divertiamo. Il posto è a Fontanazzo, in Val di Fassa, vicino a Mazzin, la struttura è una struttura che sarà in semigestione, come diceva te, che la cucina è gestita dalla struttura e noi facciamo tutte le attività del resto. Don Roberto, le adesioni fino a quando sono possibili? Intanto mettiamo in sovraimpressione un numero di telefono e alcuni recapiti dove potersi iscrivere. Sì, ci sono gli ultimi posti, quindi chi è interessato può chiaramente chiamare i numeri, o comunque contattarci tramite i social, entro 15 giugno perché poi dopo dobbiamo comunicare con esattezza i nominativi all'albergo, quindi ecco gli ultimi giorni proprio per poter iscriversi a questo campo Famiglia in Val di Fassa.